Idea web con Ivan Oliva, allenatore del mercato Alba, pochi minuti dopo la vittoria per 3-1 contro il Villanova VBC Mondovì. Coach, una partenza un po' nervosa, poi vi siete sciolti e avete conquistato i tre punti. Sì, arriviamo da una settimana dove il palleggio titolare si è spaccato la mano e quindi abbiamo faticato a prendere un attimo di ritmo, di sicurezza. Il ragazzo che ha palleggiato stasera era fatto un allenamento ieri, per il resto c'è stato molto nervosismo tra di loro, poi hanno incominciato a sciogliersi e abbiamo incominciato a giocare, come possono sapere giocare. Sì, tra le varie cose del segnalare, appunto l'ottima prova del palleggiatore Novello, ma fra i vari singoli anche del libero Armando che soprattutto in difesa si è fatto notare particolarmente. Samuele è un elemento aggiunto della squadra, è un buon giocatore, stiamo lavorando molto bene e lui ci sta aiutando molto. Adesso, nella prossima sfida, ospiterete Racconigi in casa, un'altra sfida che comunque ha parecchie insidie. Una squadra molto forte, formata da vecchi, da giocatori molto esperti e con elementi di spicco, la differenza la faranno molto gli errori, come in tutte le partite. La sua squadra si presenta ai nostri di partenza del campionato con un nucleo molto giovane, comunque da alcune fisicità anche piuttosto importanti. Cosa volete ottenere da quest'annata? Da quest'annata vogliamo migliorare i ragazzi, abbiamo voluto fare una rosa molto giovane confronto all'anno scorso, abbiamo preso esclusivamente e cercato elementi giovani che potessero dare un valore aggiunto alla squadra. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie. Grazie.